Ciao ragazzi, io sono andando al maneggio, allora innanzitutto vi faccio vedere il mio offing, vabbè lo conoscete, questa pelpina, pantalone e stivali, poi qui ho i guantini come potete vedere, adesso vi faccio vedere, ah questo qua è il cap che non c'era la mia misura ma mio papà l'ha trovato, quindi adesso ho il cap mio, adesso vi faccio vedere il gilettino di cui vi parlavo tempo fa che non avevo la misura, ok ragazzi, sta andata in camera mia, il gilet è questo qua, così, semplicissimo, vedete, più o meno, così, e se lo trovo per andare a cavallo, perché naturalmente a cavallo non ci puoi stare con il giubbotto, con la piovino, grosso tanto, quindi questo è il tutto, e niente ragazzi, adesso vado e ci vediamo dopo quando torno, vi dirò come mi sono trovate e che cosa è successo. Ciao ragazzi, scusate le condizioni, ma sono appena tornata dal maneggio, non mi leggono anche in piedi, veramente ragazzi, perché da un po' di mesi che non ci vado, oggi per la prima volta ho provato il trotto, e allora, non lo so bene com'è andata, dunque come prima volta non è andato niente male, è stata abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatta, potevo andare di meglio, però, non lo so, devo prendere equilibrio, è una questione di equilibrio, e, niente, diciamo tutto a posto, mi sono divertita, però ho un pochettino d'ansia, e devo prendere un po' di confidenza e un pochettino di equilibrio, però l'amministratrice mi ha detto che è normale, perché l'ho provato oggi, c'è la prima volta, però già ci sono andata, sono andata, però, questa volta inceppavo, e, niente, la prossima lezione, c'è l'el prossimo venerdì, quindi tra una settimana precisa, speriamo vada meglio, e vediamo, non lo so, speriamo vada meglio, anche se oggi non è andata niente male, veramente niente, sono abbastanza soddisfatta, però voglio molto di più, poi il cavallo che ho cavalcato oggi era molto pigro, e mi ha detto poi l'amministratrice, devi dare gambe, perché è pigro, e cose varie, quindi è stato anche ancora più difficile, però era bravo, era buono, quindi, vabbè, vedremo, io credo che già la prossima lezione andrà molto meglio, e la prossima ancora, quindi la terza lezione, secondo me, perfetto, quindi, niente, è solamente una questione di equilibrio, però è andata abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatta, ma stanchissima, ragazzi, stanchissima, proprio letteralmente, non ce la faccio più, adesso mi vado a fare una doccia, e niente, ciao! Scusate se il video è stato un poco breve, però non c'era molto che cosa filmare, però non lo so, ciao!